Nuova puntata di Memeconomics, ben trovati in nostra compagnia. L'attualità, la politica, la finanza raccontata attraverso il linguaggio dei meme che facciamo soprattutto noi. Dove eravamo rimasti? Parte seconda. Eravamo rimasti a questa situazione e cioè, approfittiamo anche del trailer che è appena uscito King Kong contro Godzilla. Beh, insomma, da una parte Conte, dall'altra Renzi, forse da una parte Renzi e dall'altra Salvini. Le figure possono alternarsi. Poi arriva Draghi, una figura molto più rassicurante di quanto possono essere Draghi e Godzilla. Ed ecco che i due mostri della politica vengono cacciati via ed ecco finalmente Mario Draghi al governo ha ricevuto la fiducia dal Parlamento. Adesso però si tratta di, per Mario Draghi, affrontare il quotidiano con i vari politici, con i vari schieramenti e con le varie figure con cui avrà a che fare. Tipo, ad esempio, vediamo quest'altro meme. Eccolo qua. Immaginiamoci che tu sei Draghi e incontri Berlusconi il primo giorno di governo. Come sapete Berlusconi è come dire, si ha dichiarato che Draghi lo sente un po' come una sua creatura. Draghi è entrato come direttore della Banca d'Italia quando c'era Berlusconi al governo. Grazie a Draghi Berlusconi ha recuperato tre o quattro ministeri quando oramai non aveva più nulla. Quindi insomma ce lo immaginiamo che si attacca a mo' di zecca dicendogli ti prego tienimi con te fino alla fine della legislatura e magari anche più avanti. Questo può essere un primo aspetto. Ovviamente lo raccontiamo in maniera divertente qui attraverso un'immagine di Dragon Ball. Ma ce ne sono anche altre di dinamiche. Ad esempio, adesso bisogna in qualche modo cercare di capire quali saranno i sottosegretari. Come si compronteranno i partiti politici? E lo vediamo attraverso il prossimo meme. Cioè così, i partiti politici a Draghi sulle nomine dei sottosegretari. Torneranno a fare, a utilizzare quelle espressioni e quel linguaggio a cui ci eravamo abituati e che perfettamente spiega l'attrice in questo meme. Diventato virale, peraltro, proprio in queste settimane. Andando avanti, un'altra delle situazioni in cui Draghi si dovrà in qualche modo disincagliare sono i collaboratori e le mancanze dei collaboratori. Ad esempio, quando si ritroverà davanti Luigi Di Maio, confermato al Ministero degli Esteri. Noi ci immaginiamo che accada una cosa del genere. Di Maio, che indica il foglio in mano a Mario Draghi e al quale si dice recovery found, non found. Come effettivamente ci capita spesso di sentire durante magari le dirette televisive, insomma in alcune situazioni anche in cui stona un po' tanto. Ecco, noi ci immaginiamo Luigi Di Maio, che ha competenze sicuramente non culturali a livello di Draghi, magari dare questi consigli. Beh, insomma, prima di lasciarci su Draghi, facciamo un passo indietro perché il DPCM, o meglio, la gestione dell'epidemia in Italia, è diventato un gioco da tavola e questo non è un meme. Cioè non è una cosa finta, è una cosa vera. Verrà distribuito il gioco, il DPCM 2020 Edition, ispirato al Monopoli ovviamente, però ci sono alcune analogie che fanno sorridere. Ad esempio, ci sono gli imprevisti, li vedete, in rosso, ci sono le dirette, cioè potremmo imbatterci durante il gioco in conte che interviene una sua diretta e magari ci dice che una regione diventa arancione, un'altra diventa rossa, un'altra diventa gialla. E poi guardate in alto che cosa c'è, ci sono anche i cartoncini della scienza, perché poi ci sono anche i virologi che forse diventano come borghese, potrebbero ribaltare la situazione con una loro osservazione o un loro intervento durante uno dei tanti talk show in cui li vediamo tuttora protagonisti. Beh, questo ci permette di cambiare in qualche modo, di andare avanti, insomma, con il nostro meme Economist e con il prossimo meme, perché lo sappiamo, insomma, alcune regioni stanno per diventare arancioni, insomma, stanno per cambiare colore, perché c'è la variante, ci sono le varianti del Covid e perché ci sarebbe anche la terza ondata imminente. Ecco perché per noi la situazione diventa questa, il nostro Gorilla di Cioccolato che torna in nostro aiuto. Ascoltami bene, non ho molto tempo l'Italia a tornare in zona bianca, il niente da fare, non lo sapremo mai e non potrà dircelo neanche il nostro amico Gorilla. Peraltro c'è una regione che potrebbe diventare bianca, la Val d'Aosta. Vedremo, speriamo, ovviamente. Detto questo, andiamo avanti e cerchiamo anche un po' di capire che cosa succede a livello di vaccini. Ci rimettiamo nelle mani del trailer King Kong contro Godzilla, perché si parla da un po' di giorni, da un po' di settimane, del vaccino russo, dello Sputnik. E allora, la soluzione contro il Covid-19 secondo la Russia, la Russia la vuole vendere a tutti, agli Stati Uniti, all'Europa, ai paesi asiatici, ai paesi oceanici. È come se tra Moderna e Pfizer spuntasse fuori lo Sputnik e allontanasse e mandasse via gli altri vaccini. In realtà, per fortuna che abbiamo Ursula von der Leyen, che ha detto, Presidente della Commissione Europea, noi non abbiamo idea di come realizzate questo Sputnik. Siete fuori dall'Unione, noi vogliamo vedere prima i laboratori all'interno dei quali state sperimentando e state creando questi vaccini. Insomma, la situazione è sostanzialmente questa e la preoccupazione sui vaccini è più o meno la stessa che cominciano ad avere i mercati azionari, perché succede esattamente questo. Il mercato azionario ha un momento anche abbastanza vivace, insomma, al punto di vista degli acquisti. Ma c'è il mercato obbligazionario che sta salendo, non è uno short squeeze, però, insomma, sta mostrando segnali e numeri importanti al punto che potrebbe costringere il mercato azionario a una correzione, a un ritracciamento. Ed è una delle preoccupazioni degli investitori e dei mercati, in particolare, appunto, sul mercato obbligazionario che cresce e sull'inflazione. Si torna a parlare di inflazione negli Stati Uniti, ma anche in Italia. I dati sono stati pubblicati proprio nella giornata di venerdì e c'è un'inflazione che sale, che sale anche oltre le attese. Ovviamente, qui vediamo, insomma, uno squalo che mangia una cicogna, quindi stiamo un po' esagerando. Non esageriamo, però, con il prossimo meme che vi mostriamo, perché ne abbiamo già parlato più volte in meme economics. Oro e argento vanno a velocità completamente diverse. Prima vedevamo, magari, che se saliva uno saliva anche l'altro. Magari l'argento con più volatilità. Adesso, sostanzialmente, l'argento vola e l'oro non riesce più a stargli dietro, al punto che ci immaginiamo l'oro nei panni del povero difensore del Barcellona e l'argento nei panni di Mbappé, che, come sapete, con Paris Saint Germain, ha schiantato il Barcellona al Camp Nou. È strano, no? Perché, comunque, l'oro viene percepito come una materia prima più prestigiosa, insomma, più preziosa rispetto all'argento. Ma è così che vanno le cose sui mercati ed è così che vanno le cose anche sul bitcoin. O meglio, sul bitcoin non si capisce più niente. Cioè, continua a salire senza quasi una motivazione logica, ovviamente, le motivazioni ci sono, però forse corre troppo, è questo il senso. E allora noi abbiamo fatto un meme che non ha senso. E cioè, il nostro amico che si mette il dito sulla tempia che dice, non puoi vendere bitcoin se continua ad acquistare bitcoin. Ce ne rendiamo conto che non ha senso. Ma per noi le cose stanno andando esattamente così, anche solo perché Elon Musk scrive bitcoin su Twitter, ecco che tutti comprano bitcoin. Insomma, c'è qualcosa di strano, oggettivamente. Poi, i consigli che arrivano recentemente ci dicono che è importante oggi avere anche una parte piccola di criptovalute all'interno del proprio portafogli. Sta di fatto che c'è gente che aspetta adesso che il bitcoin scenda. Il bitcoin non scende oramai da tempo in memore. Per cui ci mettiamo nei panni di, lo avete riconosciuto? È Hulk Hogan, il quale lo vediamo all'interno della sua Yakuzy e aspetta che il prezzo del bitcoin scenda. Se siete nei suoi panni, insomma, ci auguriamo che abbiate anche voi una Yakuzy o comunque una piscina all'interno della quale aspettare, magari col vostro cagnolino, se ne avete uno. E allora, andando avanti con quello che accade sostanzialmente a livello globale, sappiamo che la cosa più importante in Italia è che Draghi ha ricevuto la fiducia dalla Camera al Senato. Adesso tocca a lui, davvero, tocca a Super Mario. E anche noi, a nostro modo, cerchiamo di augurargli un in bocca al lupo, un buona fortuna o come desiderate voi. Ecco, attraverso questa foto, che è una foto vera, scattata nell'ultima conferenza stampa di Mario Draghi, c'era anche la nostra Manuela Donghi, peraltro sotto gli occhi di De Gindos, l'avete riconosciuto, l'ex numero due della Banca Centrale Europea, e, insomma, è stata presa in castagna mentre brindava proprio con l'ex presidente della BCE, Mario Draghi. Così, insomma, con questa fotografia, che siamo sicuri vi strapperà un sorriso, auguriamo in bocca al lupo al nuovo presidente del Consiglio. Questa è M.M.Economy. Speriamo di avervi strappato almeno un sorriso. Torniamo alla settimana prossima. Speriamo alla settimana.